Carissimi giovani, quest'anno riprende la festa di primavera organizzata dall'Azione Cattolica Diocesana e Dioci Reale. Quest'anno saranno tante, diverse le attività che faremo proprio il 30 di aprile, dalle 9.30 alle 17.30 nella parrocchia del suffraggio e il pomeriggio saremo proprio anche a Santa Maria la Scala dove vi sarà la messa alle ore 16 e questa passeggiata che un po' ci farà fare un po' questo cammino. Che cos'è questa festa di primavera e perché dobbiamo venire alla festa di primavera? Chiaramente, come dice la stessa parola, una festa in cui non solo i giovani possono venire per passare un po' di tempo insieme, per vedere questo percorso di fede, soprattutto il tema di quest'anno è quello della diversità e attraverso la diversità vediamo come spesso la diversità divide, invece noi vogliamo far percepire come dalle diversità proprio si arriva a un elemento di comunione e quindi vi aspettiamo questa domenica, vi aspettiamo numerosi.